Ciao, mi chiamo Malfi Roberto, volevo spiegarvi che ho fatto un video, però volevo dirvi scusa perché non si vede più di tanto, che è molto bello. Potete servirvi sul mio secondo canale, potrei dirvi questo, poi potete attivare la campanella così arriveranno alcune notifiche e ci vediamo nei prossimi video, ciao!